Musica Soggetti sacri, busti, animali, allegorie della vita contadina, ritratti, figure di donne e forme astratte, bronzi, terrecotte, gessi ed altri materiali. C'è tutto il mondo di Tonino Grassi nella mostra 1913-1999 Tonino Grassi, le reinvenzioni della scultura, allestita dal 14 dicembre 2013 al 9 febbraio 2014 al Museo dei Capuccini di Reggio Emilia, in via Ferrari Bonini e ai chiostri di San Domenico di via Dante Alighieri. Un monumento permanente delle opere del maestro e poi la vicina chiesa dei Capuccini, abbellita e impreziosita con tante sculture da grassi, affascinato dalla figura e dal messaggio di San Francesco. La vasta antologica, la prima così completa mai realizzata, propone oltre 160 opere di uno dei più importanti artisti del Novecento Reggiano, nato nel 1913 a San Bartolomeo in una famiglia contadina. Il progetto, promosso dal Museo dei Capuccini in collaborazione con i musei civici di Reggio Emilia, è stato accolto e sostenuto dai figli di Tonino Grassi, Duccio, Gaddomaria e Donato, comprende anche un ricco catalogo di corsiero editore, a cura di Umberto Nobili e ha come sponsor la Landi Renzo S.P.A. Questa mostra nasce dal rapporto di Tonino Grassi con i frati Capuccini. Tonino Grassi frequentava il convento, sono state commissionate a lui tantissime opere e questa amicizia che si è venuta a creare con Tonino Grassi ha portato poi la voglia e il desiderio di organizzare una mostra a lui dedicata. Questa mostra è stata fatta in collaborazione con i musei civici di Reggio Emilia che hanno dato a disposizione una splendida sede, quella di Chiosso di San Domenico, e le loro competenze per organizzare il tutto. L'antologica è nata da un'idea di padre Paolo Grasselli con l'organizzazione di Maura Favali, offre l'opportunità di percorrere tutta la vasta produzione del maestro scomparso con sculture provenienti da collezioni di privati e denti e di approfondire l'indagine storico-critica sulle opere. Questo grazie anche al tipo di allestimento, a cura dello studio Duccio Grassi Architects, realizzato con soluzioni che mostrano le sculture al visitatore con la medesima discrezione che caratterizzava l'artista. Tre le sezioni della mostra al Museo dei Capuccini, una con opere che testimoniano le diverse tecniche e i diversi materiali utilizzati dal maestro, con soluzioni spesso veramente innovative. Le tecniche sono quelle del gesso, della terracotta, terracotta con particolari studi di invetriatura, e il bronzo. Il bronzo naturalmente c'era persa, ha fusione su terra e una fusione particolare che abbiamo chiamato esplosiva o lavica, proprio perché veniva fatta costruendo un involucro che al momento della fusione si spezzava e lasciava uscire del materiale che andava a modificare, anche alle volte al di là delle intenzioni dell'autore, e rendeva più tormentata, più mossa, più dinamica l'immagine che si voleva produrre. Una sezione è poi dedicata ai busti di alcuni uomini illustri, da Enrico Fermi a Pasquale Marconi, a padre Daniele da Torricella. Un'altra sezione è stata riservata alle opere francescane o comunque religiose. Il Grassi fin dagli inizi, fin dal 1958, si trovò a lavorare per i cappuccini di Reggio Emilia, facendo le lunette che sono all'esterno della chiesa e il grande lunettone all'interno. Dopodiché passò all'esecuzione delle formelle che ornano e danno un significato anche da un punto di vista teologico molto alto a quello che è l'altare, per poi concludere, dopo alcuni anni, con le vie crucis e l'altare di padre Daniele da Torricella. Uno degli aspetti comunque che ha colpito maggiormente quello che è il pensiero e la sensibilità del nostro artista è stata proprio la figura di Francesco di Assisi ed alcuni aspetti della sua spiritualità. Ed è proprio per questo che i cappuccini hanno voluto dedicare a lui questa mostra all'insegna di quella che è la memoria e la gratitudine. La gratitudine perché attraverso queste opere ancora oggi il messaggio di Francesco è in grado di parlare all'uomo contemporaneo attraverso l'arte. Come vedete il linguaggio che utilizza il Grassi anche a livello figurativo è un linguaggio estremamente classico, riproduce le figure a livello proprio a tutto tondo e rappresenta l'incontro tra Madonna Povertà e Francesco. Una rappresentazione in gesso molto semplice, molto lineare, molto chiara, estremamente poetica che ci vuole raccontare proprio di questo incontro. Tra Francesco è l'ideale che trasformerà la sua vita, rifacendosi proprio anche al racconto delle fonti francescane. Quando Francesco incontra Madonna Povertà sotto forma di una signora che lo va a trovare, ecco che il Grassi ci racconta qualcosa di questa nuova forma di vita e spiritualità che Francesco portò nel Medioevo. Altra opera significativa di Tonino Grassi sempre legata all'espiritualità francescana ma in un primo periodo anche a livello stilistico è questa San Francesco che predica gli uccelli. Vedete che gli uccelli sono resi qua, molto piccoli, a terra, e Francesco si trova davanti a questo albero. Richiama a questo episodio uno degli avvenimenti più conosciuti anche grazie a quella che è stata la raffigurazione di Giotto nella Basilica Superiore di Francesco che predica gli uccelli, ai quali il poverello di Assisi ha rivolto la parola di Dio. È un episodio tratto dai fioretti che costantemente viene ricordato dalla narrativa francescana. Non di ispirazione prettamente francescana ma sempre realizzato per la chiesa dei Cappuccini di via Ferrari Bonini, sempre appunto grazie all'intervento e all'interessamento di padre Eugenio Cargioli che è stato un grande stimatore dell'opera di Grassi, troviamo ecco questa la realizzazione di quella che è l'ambone, cioè il luogo dal quale viene letta la parola di Dio per la chiesa dei Cappuccini. Possiamo dire che vengono rappresentati il Signore Gesù con a fianco appunto i due grandi profeti, Mosè ed Elia, e sotto Pietro, Giacomo e Giovanni che stanno ascoltando. Queste forme allungate che via via prenderanno sempre più importanza all'interno dell'opera di Grassi stanno proprio a significare questa tensione verso l'alto, questo spiritualizzarsi. Come non conoscere in questa scultura un classico reinterpretato e rivisto dall'autore appunto Tonino Grassi. È la cacciata dei progenitori, per chi conosce un minimo la storia dell'arte questa è una ripresa di quello che il Masaccio ha realizzato nella Cappella Brancaccia a Firenze. Potete vedere queste figure sempre più stilizzate, sempre più filiformi, con l'angelo che caccia ma in una maniera quasi buona di quello che è il paradiso, Adamo Medeva, e un gufo, un elemento che tornerà ancora in seguito, vedremo, nell'opera di Grassi. Questo è semplicemente un bozzetto perché si tratta di una decorazione paretale enorme, certamente questo è un omaggio ai Cristi Triumphans che erano tipici dell'arte diciamo così medievale. All'interno di questa arte vi erano due modi di rappresentare il Cristo in croce, o il Cristo incurvato, il Cristo patiens, il Cristo che soffre per noi, per la nostra salvezza, o il Cristo triunfans, il Cristo glorioso sulla croce. E un Cristo triunfans è il Cristo del crocefisso di San Damiano, la famosa icona francescana che ha parlato a Francesco nella chiesa di San Damiano. Gli occhi di questo crocefisso non guardano te che sei posto davanti a lui, guardano al di là di te, ti invitano a voltarti indietro, ti invitano a fare una scelta come ha fatto Francesco, ti invitano a buttarti nel mondo per portare il messaggio della parola alle persone che da te lo stanno aspettando. Rassi realizza questa opera nel 1967 e con questa vince un concorso nazionale di arte francescana a Foggia, si chiama Le Clarisse. Voi potete notare come vengano riprese appunto tre Clarisse. Come vi spiegavo prima, la linea è sempre più assottigliata, sempre più tendente verso l'alto e l'omaggio che Grassi fa alla figura di Chiara attraverso questa sua opera direi sia estremamente importante. È riuscita a cogliere anche nella figura di Chiara un messaggio importantissimo per il francescanesimo, il messaggio della fraternità. Le Clarisse sono tre, questo è il messaggio fondamentale di Francesco. La vita deve essere vissuta da fratelli, deve essere vissuta come fratelli in cammino verso una realtà più grande che quella del Signore che ti invita con i suoi occhi a buttarti nel mondo per parlare di Lui. L'esposizione ha inizio da questa sala che vuole in qualche modo riproporre il luogo di lavoro di Tonino Grassi. In particolare è stato possibile recuperare il trespolo che è anche visibile nella fotografia che è alle mie spalle e che era proprio il trespolo che utilizzava lui per plasmare i materiali, in particolare le crete, i gessi, i cementi e per poi produrre le sue opere. È un trespolo che probabilmente lui aveva acquisito dallo studio di Riccardo Secchi. Qui c'è un po' un repertorio abbastanza vario di opere sue, ma una cosa molto secondo me importante è che è presente la prima opera documentata di Tonino Grassi che è il ritratto, entro un clipeo, della madre ed è in marmo nero. Dunque è anche un materiale, il marmo, non soltanto perché è nero, ma un materiale che non ha usato moltissimo. Sono pochissime le opere che lui ha realizzato con questo materiale. Qui c'è anche un'altra, la madre ed eroe, che è stavolta in marmo bianco e fa sempre parte di questa prima produzione. Il ritratto della madre è stato realizzato nel 1930 quando lui aveva soltanto 17 anni. Nella mostra non è documentata la sua produzione di pittura, ma c'è una vena pittorica in lui notevole e qui ci si è limitati a dare qualche piccolo saggio e soprattutto a mettere in mostra dei disegni di progettuali, di edifici sepolcrali, edicole, tombe che lui ha realizzato. E dobbiamo sempre ricordare che il cimitero monumentale di Reggio è veramente una galleria a cielo aperto di sculture, di opere importantissime di grassi, dove peraltro ha usato tutti i materiali anche in quel contesto, compreso anche il marmo. Per esempio la tomba Bagnoli ha un rivestimento interno proprio di rilievi in marmo. Questa è la sala che ha carattere di esposizione cronologica delle opere, a cominciare dalla Smirne, che è quest'opera che vediamo in primo piano, che ha partecipato alla Biennale di Venezia del 1942 e poi via via le altre. Ecco, una cosa credo utile da dire è che questa serie di teste, così noi le abbiamo chiamate, sono veramente delle ricerche sulla forma piuttosto che dei ritratti di personaggi. Grassi è in sintonia perfetta con i momenti più importanti di ricerca della cultura del Novecento. A cominciare appunto da Novecento, dalla corrente di Novecento, che in qualche modo si proponeva di sublimare l'aspetto delle immagini e di uscire quindi da valori formali molto legati alla realtà o al verismo. È la stessa situazione che noi vediamo nel meraviglioso gruppo del cavaliere con il cavallo nel cortile degli stalloni, dove appunto vediamo questo cavaliere che non è un giovane contadino, come il cavallo non è un animale da lavoro o da corsa, ma questo gruppo rappresenta questa relazione, questo legame tra l'uomo e la natura. Qui in sequenza abbiamo questi temi che sono molto vicini alla poetica di Novecento, che sono non soltanto le teste ma anche le contadine e le pomone, che come si può vedere sono forme in qualche modo stilizzate, anche se la volumetria è molto espansa ed è molto espansa perché si vuol segnalare il valore della femminilità come simbolo di fecondità, di procreazione e si ricollega in qualche modo anche in questo caso alle pomone di Marini, ma anche all'idea delle statue antiche che raffiguravano le Veneri, le Veneri ancora del Paleolitico, ecco, è un legame forte con questa tradizione. E poi invece abbiamo una stagione che potremmo definire del neorealismo in un'accezione però molto particolare perché queste figure di persone che lavorano e quindi mestieri sono anche loro molto molto sublimate. Il lavoro non è tanto descritto come motivo per rappresentare la fatica, la durezza della vita ma in realtà invece è più un rito, si celebra il rito, il rito delle persone che lavorano, ecco, e quindi c'è un'aura un po' metafisica. Molte volte in questi pannelli che probabilmente provengono dal consorzio agrario per il quale lui aveva fatto il cavallo e il cavaliere di cui abbiamo parlato prima e il fregio che tra poco vedremo, molte volte raffigurano in questi pannelli anche soltanto un manufatto, un manufatto di lavoro, in questo caso il torchio. Progressivamente assistiamo a una scarnificazione della forma, una forma che si allunga quasi un'idea di neogotico. ecco, fino ad arrivare alle forme che abbiamo definito laviche, esplosive e per concludere il percorso di ricerca, diciamo che una produzione sua particolare riguarda l'utilizzo di materiali di risulta della fusione, quindi frammenti di fusione in bronzo che riassemblati insieme danno vita a delle forme che sono assolutamente informali e quindi rispondono ai dettami della cultura dell'informale. Lui è talmente legato al figurativo che anche quando fa queste cose bisogna sempre di dare un titolo che richiami una figuratività, per esempio questo motivo che ricorda le ali lo chiama Icaro, un altro motivo che vedremo ancora più informe, lo chiami Hiroshima. Queste due allegorie dell'agricoltura e della meccanica erano elementi di decorazione della ditta dell'azienda Landini, Landini di fabbrico, che sono poi rifluiti insieme con pannelli che non sono presenti in mostra ma che sono simili a quelli che abbiamo appena visto al fondo della sala delle colonne e sono rifluiti poi nell'azienda Interacciai. Sono figure concepite all'antica e come ancora ai tempi dei romani si simboleggiavano per esempio i fiumi. Qui siamo nel 1951, quindi una delle prime opere documentate e questa è una porzione di un fregio che era stato realizzato per decorare la sede del Consorzio Agrario di Reggio Emilia. Naturalmente la figurazione è assolutamente eloquente e mostra i lavori legati all'agricoltura, quindi il tema della vite, il tema del grano, il tema del formaggio e il tema della relazione tra l'agricoltura e la chimica che vediamo proprio in apertura della serie. Questa è la sala dedicata ai temi religiosi e prevalentemente sono in mostra opere che sono state realizzate secondo la tecnica della fusione lavica e quindi molto tormentata è la superficie piena di anfratti proprio come se si volesse andare a scoprire l'anima della materia. Queste sono le tre figure allegoriche del burro, del latte e del formaggio che sono state collocate nel 1948 nel cortile delle latterie riunite e la collocazione prevedeva l'inserimento al centro di tre fontanelle con la vasca circolare e è stata così fino allo smantellamento per la collocazione qui nella mostra, dopodiché non sappiamo bene cosa succederà. Allora sono veramente interessanti perché anche qui il discorso veristico lascia il posto invece a una reinterpretazione assolutamente sublimata della realtà. Pensiamo a questa fanciulla che dovrebbe essere la giovane contadina che è appena munto e che per simboleggiare il motivo del latte sta bevendo dalla ciotola appunto il latte. È un motivo assolutamente romantico, ecco, espresso proprio al di fuori dei valori di naturalismo, di realismo, di realismo concreto. E così anche il garzone che porta la forma di formaggio sulla spalla. Sono bozzetti di altri tre più grandi pannelli collocati nella scuola media Leonardo da Vinci e ricordano e vogliono celebrare appunto il genio universale Leonardo da Vinci che è collocato al centro mentre sta operando con dei disegni. Alle sue spalle in alto c'è una rappresentazione del Cenacolo di Milano, del Santa Maria delle Grazie e dall'altra parte abbiamo motivi che richiamano la battaglia di Anghiari a sinistra e il San Girolamo a destra insieme con altri elementi che possono suggerire l'idea della ricerca scientifica e tecnologica di Leonardo su temi diversi, ad esempio il tema del volo. Però l'elemento più importante di decorazione della scuola Leonardo da Vinci è questo che noi abbiamo chiamato l'uomo di Leonardo dove troviamo questo giovane che tiene tra le mani questo tondo in cui appunto è inserita la figura dell'uomo di Vitruvio o di Leonardo come si dice. E questo è interessante perché fa capire come lui abbia anche guardato molto alla storia dell'arte antica per cui un'opera così fa venire in mente Donatello, Verrocchio, insomma artisti della nostra tradizione rinascimentale e rielaborati però in modo da attualizzarli. Ecco, la reinvenzione è proprio questo, è questo ridare vita nuova a delle situazioni, a delle forme che in qualche modo erano già state sperimentate. Ecco, il tema degli animali ha avuto sempre un grandissimo interesse, ha suscitato sempre un grandissimo interesse in grassi e direi che in tutti i periodi della sua attività ha sempre sviluppato questo tema. A partire dal cavallo, il cavallo abbiamo detto che è stato trattato anche nell'opera che introduce alla mostra nel cortile, in varie forme, il motivo del toro, soprattutto il toro ferito, è una cosa che lo ha appassionato molto, la capra che vuole essere la sua risposta in qualche modo alla capra di Picasso, concepita in modo assolutamente diverso, perché quella di Picasso è costruita con vari elementi che vengono assemblati insieme fino a formare, a dare forma all'immagine. Qui invece è proprio tutta la struttura, è frutto di questa fusione assolutamente esplosiva che ha lacerato, ha modificato, ma non per annullare la forma, ma proprio per darle una vita nuova. Poi abbiamo il grifone e poi, l'ultima opera, tra le ultime opere, il Cormorano del Golfo. Il Cormorano del Golfo recupera una delle immagini che la televisione veicolava, era il Cormorano ingrommato di nafta al tempo della guerra del Golfo. Nell'ambito degli uccelli poi invece un tema che lui sviluppa spesso è quello del pellicano come simbolo cristologico pellicano che nutre col proprio sangue i suoi piccoli. Il modo di trattare in forme così tormentate la materia bronzo è chiaro che ha influenzato anche la produzione di opere in altri materiali che naturalmente rispondevano meno alla possibilità dell'esplosione lavica, ad esempio appunto la terracotta, o anche i conglomerati di cemento che lui usa molto. La mancanza di tridimensionalità però è corrisposta a una bidimensionalità veramente elaboratissima, dove ogni centimetro di superficie è segnato da motivi che danno vita, danno forza all'immagine. Lui è stato anche interessato a opere di carattere letterario e qui in questo caso questa composizione è un'illustrazione della poesia 10 agosto, quella tornava una rondina al tetto di Pascoli che evidentemente l'aveva particolarmente interessato. Questa è la rondine che cade tra gli spini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.